il campionato under 19 dal top e pino cutopia di milazio la quarta di andata la est di milazio vs la nuova rinascita partiti la rosa vs il portiere che al momento in tasca nella formazione gol in vantaggio la formazione di angelo caragliano il milazio quindi è passato in vantaggio al quinto minuto del primo tempo la rosa a tiro la parata la respinta e ora c'è il pareggio della nuova rinascita con il numero 17 numero che a meno risulta forse fazio in divisa pantaloncini bianchi e maglietta azzurra intanto Trimboli, 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 Trimboli tira e gol, 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 2 a 1, fortunato Trimboli bravo fortunato ed ecco allora ancora un calcio di rigore di bella messa a terra quindi calcio di rigore cambio ora è di bella credo gol, 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 ancora 3 a 1 per la formazione dei rosso-blu del milazio è una giornata proprio sotto sopra gol di bella da lontano 4 a 1 vediamo un po' la rosa direttamente porta riprende la Milture ma è in posizione di fuorigioco quindi il gol viene annullato giustamente Salamone che batte il calcio di posizione prende la traversa poi riprende Cambrì e poi Trimboli fuorigioco questa invece l'azione del calcio di rigore ha segnato la nuova rinascita Antonuccio via Sanania calcio di rigore per la rinascita gol, 4 a 2 riesce ad raccontare il pallone 6 Q 6 Q conclude fuori ripartito salamone salamone che tira gol salamone un bel gol 5 a 2 si gioca largo per la nuova rinascita intanto un tiro che si fila vicino al palo con il numero 7 la conclusione la parata di Anania Pagano che tira attenzione impegna un po' 6 Q e questo va in porta 6 Q 6 Q 6 Q 6 Q ancora vediamo poi 6 Q si può anticipare è cominciata alle 15.30 sembrava che ti resta in posizione 6 Q 3 Q Trimboli attenzione a favore del gioco se passava a 6 Q se tira Trimboli no però attenzione al numero che non vedo comunque attenzione attenzione 17 Manna 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 che tira gol piccolo Manna segna il sesto gol per la formazione di Angelo Caragliano ecco qua l'arbitro non dà nemmeno il recupero in effetti neanche ci vuole 1-2-3 ancora vittoria a punteggio pieno la squadra di Angelo Caragliano alla grande un bye bye da Santicitanis alle prossime